E chi l'ha detto che Babbo Natale fa visita solo ai più piccoli? Oggi è arrivato anche tra gli allievi dell'ente formazione Irigem con una doppia tappa nelle due sedi di Rosà e Bassano dove ha incontrato i ragazzi portando loro un regalo a dir poco speciale. Tra un sorriso e una battuta Babbo Natale ha chiesto agli studenti se qualcuno di loro creda ancora ad una festa che troppo spesso dopo una certa età rischia di perdere la sua magia. Bisogna credere, ha sottolineato Babbo Natale, perché dopo tutto i regali arrivano e gli studenti dell'ente di formazione Irigem oggi ne hanno avuto la conferma. Troppo grandi per ricevere un regalo materiale hanno avuto in dono un consiglio. Ricordatevi sempre, è stato detto loro, di essere solidali e tendere la mano a chi ha bisogno perché, dopo tutto, il senso del Natale è proprio questo e la solidarietà permette di trasformare ogni giorno dell'anno in un giorno speciale.